Sono durati un anno intero i festeggiamenti della sottosezione del CAI di Gazzaniga per il 35esimo anniversario di fondazione del Sodalizio che oggi conta più di 400 soci. Sull'attività dell'associazione si è voluto fare un bilancio anche attraverso una bella pubblicazione. Abbiamo fatto il libro sul 35 anni appunto, è un libro fotografico prevalentemente con fotografie dell'attività di tutti questi anni e con qualche paginetta scritta, ma poca roba, è più da vedere che da leggere. Durante la cena sociale dei giorni scorsi sono state ricordate le tante iniziative dell'associazione, una delle più attive della Valseriana che conta anche numerosi soci provenienti dagli altri centri della Mediavalle. Pian piano siamo partiti circa 100 soci, il primo anno erano 135, siamo arrivati adesso a 450, superato i 450, quindi ci sono stati degli alti e bassi, però pian piano ci si è sviluppati. Come si è sviluppata l'attività nelle varie commissioni che poi hanno preso piede nella sottosezione? Non è che facciamo i soci del CAI di Gazzaniga, anzi probabilmente cambieremo anche il nome della sottosezione perché copriamo in effetti la Mediavalle seriana, sono cinque comuni che ci danno la maggior parte dei soci. Il CAI di Gazzaniga in questi ultimi anni ha visto crescere in modo significativo anche i settori dello sci alpinismo e dell'alpinismo giovanile. Anche come alpinismo pratichiamo parecchie gite e quest'anno in occasione del 35esimo l'amico Alex, che è il responsabile tra l'altro della commissione, ha voluto caparbiamente organizzare la gita al Monte Bianco, proprio la vetta del Monte Bianco. L'alpinismo giovanile è il futuro della nostra sottosezione. Noi anziani che andiamo ancora in montagna, però preferiamo impegnarci anche con i giovani, ma non solo noi anziani, ma ci sono gli accompagnatori. Portiamo in giro 64 ragazzi, dagli 8 anni fino ai 14. La festa è stata anche l'occasione per ripercorrere le tappe più significative del cammino fatto fin qui e per premiare alcuni soci benemeriti, da Mario Coter della commissione Sentieri, a Fabrizio Vecchi del settore alpinistico giovanile, a Luigi Salvoldi, tesoriere dell'associazione.